Buongiorno amici e amiche di FC Inter News, campioni e campionesse d'Italia, ben ritrovati con un nuovo appuntamento mattutino sul nostro canale YouTube, da lunedì a venerdì, un video a approfondimento per parlare insieme della nostra Inter, ritroviamo con noi Alessandro Cavasini, ben ritrovato Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, buongiorno a tutti. Allora, Last Dance Alessandro perché oggi è l'ultimo giorno, anzi queste sono le ultime ore di Steven Zhang come presidente dell'Inter, sta nascendo una nuova Inter americana perché a partire da questo pomeriggio alle 5, praticamente non ci vorrà eventualmente il passaggio, l'Inter passerà nelle mani di Oktri. Nelle ultime ore non è arrivato, ecco, nessun rilancio da parte di Zhang, nessun accordo tra le parti, tutto sembra essere definito, quindi Steven Zhang che saluta dopo 8 anni la guida del club Nerazzurro l'Inter, anche ieri sera Alessandro ci si aspettava, ecco, magari un video messaggio, un video saluto da parte del presidente in occasione dell'evento a Castello Sforzesco che non c'è stato, quindi tutte conferme che fanno ormai da introduzione a quello che avverrà nelle prossime ore. Alessandro, è chiaro che si chiude una parentesi, si apre una nuova di Oktri, capiremo quanto sarà lunga quella di Oktri perché le intenzioni comunque di un fondo c'è sempre quella di cedere poi il club a nuovo compratore, però ecco, quello che deve passare come concetto, dobbiamo trasmettere ai nostri lettori, ai tifosi dell'Inter, è appunto questa sensazione di tranquillità che ci deve essere perché non ci sarà una rivoluzione, bensì semplicemente un passaggio di consegna e tutto resterà così com'è al momento, cambierà soltanto il CDA, ma queste non per questioni burocratiche, per motivi di forza, le persone resteranno lì dove sono, ognuno porterà avanti i propri compiti e soprattutto a livello sportivo tecnico non ci saranno rivoluzioni. È questa la speranza, è questo quello che al momento ci viene detto e quindi noi non possiamo fare altro che fidarci. La Gazzetta evidentemente ha avuto qualche soffiata in merito alla deadline perché peraltro c'è una curiosità che è una partita, quella di oggi, che si gioca su tre fusi orari, no? Nanchino, Lussemburgo e Los Angeles, quindi va da sé che chiaramente però l'Inter fa capo comunque all'orario europeo, diciamo così, e quindi la Gazzetta avrà avuto questa soffiata sulle ore 17 come proprio orario preciso del gong che se tutto resta così segnerà la fine dell'era Suning e l'inizio dell'era Octri, come hai detto giustamente tu, vedremo per quanto poi durerà perché subito si era parlato di un compratore già dietro il fondo californiano, col passare delle ore invece sembra che questa ipotesi si sia raffreddata. La Gazzetta per esempio stamattina proprio sottolinea invece l'inesistenza di un compratore, l'inesistenza di una due diligence in corso, quindi ci sarà ci sarà modo e tempo. Io vado già un po' oltre, dando per scontato insomma che la fine della storia sia questa e come abbiamo sempre fatto, rinnovo comunque i complimenti nonostante i difetti, nonostante gli errori alla gestione di Suning che di fatto lascia un asset iper rivalutato rispetto a quando era stato preso, chiaramente non è che fanno beneficenza, ci avranno guadagnato pure loro, non fosse altro a livello di immagine, no voglio dire, quindi ma chi di noi fa qualcosa senza provare pure a guadagnarci perché se campa quindi, però devo dire che lascia anche non solo a livello di brand e di diciamo di titoli, ma una squadra che oggi è tra le più importanti non solo a livello italiano e vabbè ma a livello europeo e con i conti quasi quasi totalmente sistemati perché io vi ricordo sempre, noi l'abbiamo ripetuto ormai fino alla nausea, i debiti, il prestito contratto con Octri fa capo a Steven Zhang, fa capo a Suning, non fa capo all'Inter, quindi poi è chiaro che a cascata se il proprietario ha dei problemi ce l'hanno pure le sue emanazioni, no? Però il debito non è che l'Inter adesso ha il debito che aveva, quello è un debito, è un debito su, quindi è una storia un po' più complessa di come adesso viene raccontato. Un club lasciato in salute, o meglio sta andando anche verso il pareggio di bilancio, quindi questo sicuramente sono dati confortanti, li avevano comunque preannunciati un po' anche i dirigenti, nelle scorse settimane, nei scorsi mesi quando si parlava di una situazione comunque più rosea dal punto di vista economico e finanziario, ma anche in questo caso dal mercato non dobbiamo aspettarci ora, ecco, 100-200 milioni di euro spesi in attivo, saranno lo stesso, le linee guidi saranno le stesse, quindi autofinanziamento, anche perché comunque non c'è chissà quale mercato da condurre e l'ultimo regalo di Steven Zhang, se vogliamo chiamarlo così, no, sono stati i rinnovi dell'intera dirigenza, perché probabilmente non l'idea di Zhang, c'era quella comunque di restare al comando dei niti, di trovare un accordo che poi non c'è stato, però ci sarà continuità dal punto di vista dirigenziale, al netto poi di quello che saranno le scelte di O3 per il futuro e poi ovviamente aggiorneremo come sempre. In questa partita, Alessandro, come le defini da tu, c'è anche un po' la questione legata ai rinnovi, perché Simone Zaghi ha annunciato che a fine stagione in qualche modo si siederà al tavolo con la dirigenza, ma in questo caso non dovrebbero essere, c'è assolutamente problemi, anzi lo stesso Zaghi ha detto non vedo l'ora di firmarlo, c'è quello pronto, preparato di Nicolo Barella da blindare e poi c'è anche quello che ovviamente è quello più importante, perché in qualche modo c'è ancora un po' qualcosa su cui bisogna lavorare, è quello di Capitano Lautaro, che ha rilasciato durante la visita i ragazzi dello sport un intervista molto molto importante. Allora Alessandro, facciamo chiarezza anche sull'intervista di Lautaro, perché è il tema del giorno. Rispetto a quell'uscita nel post partita di Interlazio, che un po' aveva fatto preoccupare noi tifosi perché Lautaro in qualche modo aveva dato una scadenza, ha detto voglio entro questa settimana, entro questa stagione. Lautaro spiega il perché, perché lui vuole definire il tutto prima di partire con l'Argentina per la Copa America, quindi nella testa di Lautaro cerco appunto di chiudere la partita prima di andare via, anche perché poi sarebbe un brutto problematico firmare e tutto, ovviamente incontrare la dirigenza e altro. Quindi Lautaro che però ribadisce nell'intervista la volontà di restare all'Inter, dice mancano veramente pochissimi dettagli, voglio restare qui. A me Alessandro ha colpito l'intervista di Lautaro perché magari gli indizi ci avevano un po' allarmato, quelli che arrivavano, però ecco le dichiarazioni di Lautaro sono da Capitano, da un giocatore che sta benissimo a Milano, che riconosce l'amore che l'Inter gli ha dato, ma che tutti i tifosi li hanno riconosciuto dal giorno 1, lui dice dal giorno 1 mi sono sentito amato qui, sto benissimo qui, la mia famiglia sta bene qui, i miei figli sono nati e cresciuti qui, mia moglie è un ristorante, quindi tutto quello che noi abbiamo detto, Lautaro lo ha confermato. Sei più tranquillo da questo punto di vista, forse probabilmente lo sei sempre stato su questo fronte, però ecco questa intervista qui sicuramente ci fa stare tutti più tranquilli. Sì, peraltro è un'intervista che lancia diversi spunti anche di campo, è molto molto interessante e Lautaro parla davvero leader, quindi al di là poi dell'apporto che ha dato con i suoi gol e gli assist, secondo me quest'anno è stato fondamentale Lautaro proprio per la persona che è diventata, è un leader, è un leader tecnico ma anche un leader emotivo che sa coinvolgere tutti quanti, per esempio racconta l'aneddoto con Aslani, i primi giorni lui lo vedeva un po' sottotono, un po' abbattuto, ci fu un dialogo cercato proprio da Lautaro con il centrocampista, che un po' si risentì invece poi dice Lautaro poi ha capito col tempo e mi ha ringraziato, quindi sono quei dettagli che poi fanno differenza tra una squadra che ha delle potenzialità ma che le esprime fino a un certo punto e una squadra che poi va oltre i 90 punti, perché è anche la differenza tra una stagione e l'altra. Abbiamo visto con il Napoli, l'Inter diciamo che è un flusso continuo, Lautaro ormai è parte integrante di questo flusso e il fatto che lui voglia restare e che insista nel voler rinnovare è già un punto di partenza ottimo. Poi il discorso secondo me si sposta anche su livelli differenti dalle volontà specifiche di Lautaro e lì è fondamentalmente una questione economica è inutile che ci diciamo. Una questione economica che si spera alla fine accontenti di tutte le parti. Lui come hai detto tu voleva sistemare il tutto prima della partenza con la nazionale che adesso avrà delle amichevoli, poi la Coppa America, è chiaro che questo cambio di proprietà come lui stesso riconosce fa in modo che i tempi evidentemente si dilatino ma lui non aspetta tranquillamente, così almeno è quello che io percepisco dalle sue... Sì, poi c'era anche Marotta nell'intervista con lui alla casa dello sport che era presente, abbiamo anche fatto vedere ieri un'immagine, c'è stato un pizzicotto ma anche lo stesso Lautaro ammette che nonostante ecco ci sia questa incertezza sopra la testa di qualsiasi cacciatore ma anche dei dirigenti, comunque i contatti sono continui, c'era stato anche un botte risposta a distanza dal palco dell'evento del premio Gentleman da Marotta e Lautaro, però ecco secondo me in qualche modo Lautaro annuncia se vogliamo dire il suo rinnovo, cioè è un'intervista molto molto importante, annetto poi di tutto l'amore che Lautaro ha ricevuto anche durante la festa a San Siro, durante la stagione... Sì ma lui parla già di Obiettivo Champions... Esatto, parla di Obiettivo Champions, è venuto a Taremi, quindi parla da capitano e parla di un giocatore che vuole ancora continuare a vincere i trofei con l'Inter, questo sicuramente è un passaggio molto fondamentale, cioè Lautaro Martínez non è sazio, nonostante comunque abbia vinto parecchio con l'Inter e la prossima fermata sarà quella appunto di cercare di vincere la Champions League, di portare la Coppa dalle grandi orecchie a Milano. C'è un passaggio bellissimo che lui dice, per me è un sogno pensare di essere arrivato qui e di essere il capitano dell'Inter che alza la Coppa della seconda stella, lui l'ha definito così, ecco questa parola anche nella canzone celebrativa, ho fatto un sogno, questo sogno che ormai stiamo vivendo da un mese perché effettivamente noi il 22 aprile dicevamo la seconda stella, ci siamo fatti un mese di festa, ieri l'ultimo appuntamento e a partire appunto da questo pomeriggio, come ricordate Alessandro, 17 in punto, partirà una nuova era, partirà anche una nuova stagione, è chiaro che c'è l'ultima partita contro il Verona da giocare, però ci sarà poi da programmare il futuro e quindi apriremo la nuova era, un'Inter americana se le strisce con l'addio di Steven Zhang, poi sarà anche il momento di tracciare un resoconto finale della gestione Zhang su Ning, ricordare ciò che è stato fatto in campo, anche ovviamente i passaggi negativi, i trofeviti, quindi poi faremo anche un bel recap su questo. Alessandro, io ti ringrazio, ti saluto, ci rivediamo presto. Grazie a te Raffaele, un saluto. Noi ci vediamo questo pomeriggio alle ore 19 in diretta con il nostro salotto, probabilmente con l'ufficialità del passaggio dell'Inter in le mani di Oc3, l'addio ufficiale a Steven Zhang, quindi vi aspetto e non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo, sempre, forza.